L'Adriatic Green Trail è un'esperienza cicloturistica, quindi parliamo di cicloturismo della provincia di Piesa d'Urbino che darà la possibilità in tre giorni, 8, 9, 10 aprile, di gustare a pieno le bellezze del territorio. Quindi è un itinerario in bicicletta per goliersi poi tutti i borghi della nostra bellissima provincia. Chiaramente poi ci saranno dei percorsi anche impegnativi, della lunghezza media di 80 km al giorno per un percorso medio oppure più lungo di 130 km al giorno, ma ognuno al proprio ritmo, ognuno al proprio passo. La bellezza è pedalare, gustarsi del paesaggio e alla fine arrivare insomma. Abbiamo tre giorni, quindi tre percorsi differenti, tutti studiati appositamente su strade secondarie, sentieri, strade bianche con dei comuni capofila che sono ad esempio Fano, venerdì 8, poi abbiamo sabato il comune capofila diventa Urbino e poi abbiamo Pesaro, quindi sono dei percorsi dislocati tutta la nostra provincia. In totale sono 350 km con quasi 7.000 metri di dislivello da dividere nei tre giorni. Tutti i giorni la partenza e l'arrivo saranno nello stesso posto, che è uno splendido casolare di campagna e ha dislocato nella zona di Santa Maria dell'Arzilla il Magione Broccoli, dove tutti i ciclisti potranno avere anche un bel ristoro finale, insomma anche per condividere le esperienze del giorno. Ricordiamo che poi l'evento è aperto ad ogni tipo di bicicletta, quindi dalle gravel, alle mountain bike, alle bici da trekking, cicloturismo, insomma, ognuno si gode proprio col proprio mezzo il paesaggio. Siamo quattro amici con la passione per la bicicletta, ma che uscendo tutti i weekend abbiamo visto che è un territorio particolarmente pregiato, che si presta partendo dal mare, salendo sulle colline fino alle nostre prime montagne della provincia di Pesaro Urbino. Quindi con questi tracciati che sono esclusivamente off-road e su strade secondarie, quindi non utilizziamo le strade principali e che ci permettono di vedere paesaggi che sono di notevole interesse, sia paesaggistico che naturalistico, che soprattutto poi dopo i borghi dell'entroterra del nostro territorio pesarese. Ci siamo dati un'idea di 150 partecipanti massimi per poter essere molto attenti su tutte le esperienze che tutti i ciclisti e le cicliste verranno a fare con noi. La bellezza in fondo della nostra provincia sono le colline, sono la possibilità di vivere un turismo slow, un turismo lento, dove le attività outdoor, soprattutto in bicicletta, possono essere molto importanti. Noi come Confcommercio, peraltro, con l'itinerario della bellezza abbiamo la stessa volontà, cioè quella di valorizzare i borghi, valorizzare queste località della nostra provincia che partecipano al nostro progetto.